Ciao a tutti da Svideo, ieri sera ho visto Massimo Giletti andando nell'arena che ha intervistato Asia Argento e mi è piaciuto molto quando sul finale di puntata ha chiesto a quelli di Sky di riflettere sulla loro decisione di estromettere Asia Argento come giudice dalla gara anche se per il momento noi sappiamo che ci sono state tutte queste puntate registrate delle audizioni e anche quelle dei bootcamp le abbiamo potute vedere, adesso la vedremo ai bootcamp ma sembra che proprio non ci sarà per le live, per i serali anche per il discorso che ha fatto Cattelan che si è visto questa clip prima della prima serata delle audizioni dove si diceva che appunto non andava incontro con i principi della rete insomma adesso non vorrei dire le parole sbagliate perché quando sono cose del genere bisogna sempre dire le parole esatte e precise perché sennò dopo uno dice oh e mi stai diffamando, mi stai calunniando io non sono qui per diffamare e calunniare nessuno ma volevo anch'io anche se io non ho il potere di Giletti, non ho nessun potere qui però un potere ce l'abbiamo perché se io sono una persona possono vedere tante persone, possono vedere tante persone questo video e anche loro possono insieme a me sostenere questa cosa, questo discorso possiamo anche fare un hashtag Asia Argento deve rimanere, magari lo potete scrivere nei commenti ma al di là dell'hashtag se in tanti facciamo sapere questa nostra cosa io penso che come me la pensano altri, altre persone io penso che sia quasi un'ipocrisia del mondo dello spettacolo forse e stromettere dalla gara Asia Argento perché innanzitutto sentendo il discorso che è stato fatto Fedez per radio al di là di principi e mica principi sarebbe stato perché una cosa del genere quindi tutto il fatto di Jimmy Bennett, Asia Argento tutta la cosa che c'è stata, che non sto qui a rispiegarvi perché ne è stato parlato ovunque avrebbe potuto oscurare tutto il discorso della gara ma no, no, ma non è assolutamente vero perché chi ha potuto vederle alle audizioni avrà riscontrato la competenza musicale di Asia Argento avrà riscontrato la sua simpatia avrà riscontrato il fatto di essere anche severi in un certo senso con alcuni tipi di giudizio perché non bisogna sempre essere insomma, a volte bisogna essere di polso quando bisogna esserlo quindi io penso che per quest'anno un giudice come Asia Argento avrebbe potuto dare molto alla competizione, alla gara ma questo l'ho pensato da subito da subito quando si è iniziato a dire che sarebbe stata tolta io penso che sia uno sbaglio enorme perché Asia Argento davvero sarebbe stato un ottimo giudice io spero che ancora quelli di Skype possano riflettere su questa cosa di chi è competenza della trasmissione io non so se qualcun altro lo pensa come me però al di là di tutto, di quello che c'è stato e quello che non c'è stato anche perché abbiamo sentito le verità di una campana e le verità dell'altra campana abbiamo sentito entrambe le posizioni e poi dopo ci sono giri di avvocati avvocati, storie del genere ci sono storie anche magari di opportunismo perché ci sono delle amicizie che diventano stili ci sono nemici attorno anche a Asia Argento quindi è una cosa molto brutta è una cosa molto brutta anche certe cose che le hanno detto perché è molto facile quando si giudica e si critica negativamente una persona la si condanna da subito e poi dopo invece per riabilitarla si fa molto fatica a riabilitare il nome di una persona e quindi io... mi è piaciuto Massimo Giletti l'altra sera perché è stato molto bravo in questa cosa poi io non sono qui per dire ma ha fatto questo, non ha fatto quell'altro io sono qui per dire che Adix Factor sarebbe stata un perfetto giudice quindi io qui voglio parlare della competizione musicale e di parlare che anche loro possono pensarci a questa cosa e reintegrare nello staff di giudici Asia Argento io spero tanto che ci riesca che ci ripensano e che la possiamo vedere alle live chi la pensa come me scriva nei commenti chi è in disaccordo con me lo scriva pure nei commenti perché io non ho né torto né ragione ho dato solo la mia opinione ciao da Svideo Sì 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 Sì